Non lo so, boh, che sai fare, sai ballare, sai suonare, sai dwercare, sai, sai, non lo so, che sai fare E per caso ti sai fare qualche, che ne so, ballare, che ne so, sai qualcosa del genere Musica Dove sei? Secondo te io di dove sono? Dall'accento si sente? Secondo te? Sono un po' confusa in questo momento E lo faccio apposta Si sente un po' l'accento, forse Ti vedo molto concentrata Un aiutino? Forse, se te lo dico forse però subito capirai Fammi pensare, un aiutino, un aiutino Città più odiata Città? Più odiata Napoli Ah, lo pensi anche te allora No, ma no, perché è verità Cosa mi racconti? Però... Cosa mi racconti? Cosa stai facendo di bello qui sopra? Un cazzo Immagini Ecco, esatto Quanti anni mi dai? 16 Ma proprio diretta E infatti non 16 Secondo me Tu invece ne hai L'apparenza inganna L'apparenza inganna Secondo me Ne hai 17 No Ci sono vicino? Sì Vabbè, se non hai 17 hai 18 Non ti do di più Di più Di meno No Allora 16 Ma veramente fai 16 anni hai Allora, sembrava che ne avevi tipo 17 18 Avrei puntato subito a 18 Però E... Beh Cosa stavi a fa' qui sopra magari Oltre a un cazzo? Un cazzo Mh In realtà sono entrata poco fa Anche io Tipo adesso sono entrato Tipo qualche 5-10 minuti fa E niente E... Per caso te sia fare qualche Che ne so Ballare Che ne so Qualcosa del genere Ci sta pensando Ho tre chitarre sopra di me Cosa? No, ho tre chitarre Ho tre chitarre sopra di me Ah Sei suonare? Hai fatto per caso qualche scuola proprio adatto al suo Cioè magari per suonare o C'è molto giusto per cazzeggiare Per del tempo In realtà ho studiato pianoforte Però... Adesso Però chitarra fai Mi piace questa cosa? E... Non so Ti andrebbe magari suonare qualcosa? E... Non so Ti andrebbe magari suonare qualcosa? Devo prenderla Sei a noi Vabbè abbiamo capito Che ti è a noi Ti è a noi Ecco immaginavo E... Non so che... Ci sta pensando Ci sta pensando Ma io non la faccio Che non trovo Che talle Dove non è? Bene non la troverò mai E... E... Non so Mmm... Boh Sei a ballare? Sì Tipo? Con la faccia Tutta convinta Ho studiato... Ho studiato... Danza Ah 10 anni Ottimo Classica Ok vabbè No ragazzi No ragazzi Ci stavamo andando nel profondo Ci stavamo andando nel profondo Ci stavamo andando nel profondo Raga Basta La prossima volta Andremo diretti Set workare Ci vediamo nella prossima clip Tutto bene E... Di dove sei? Di Milano Secondo te io di dove sono? Boh Secondo te? Si sente un po' Del sud Eh del sud Di che parte? Sono negata in queste cose Non vorrei dire una cazzata Si sente Si sente Si sente Ma forse no Allora Ma dire che ora capisci subito Eh Allora Città Più odiata Napoli Eh subito Io dico a tutti quanti Città più odiata Napoli Vabbè Allora lo penso anche Io non la odio Io non la odio Io amo Napoli Io amo Napoli Eh vabbè Immagina Immagina Almeno si spera Eh Sennò mi stai mettendo Non sono quelle classiche milanesi Che si chiamano Eh Napoli del sud Che schifo Quei terrori No Non sono così Ok Allora quindi tu sei di Milano Si Ma niente Per sfortuna si Perché per sfortuna Ma quella Milano è bella Più o meno Eh beh cosa mi racconti Cosa stavi a fare qui sopra Un cazzo Immagina Niente mi annoiavo Cercavo gente con cui parlare Anch'io Anch'io però Purtroppo Devo dire Sei stata la prima persona Perché purtroppo qui sopra Sfortunatamente Si incontrano solo Solo cazzi Sì Maniaci Esatto Maniaci sessuali Soprattutto Anziani A specificare vecchi Ecco Sì Ma io dico Che cazzo ci fanno qui sopra No Madonna Il problema è che ci sono Ogni fortuna sera Io mi dico Quanti anni hai Secondo te Sempre un indovinello Stasino 19 19 Non dirmi che No 19 Sicura Sì sicura E no Quanti anni hai Si capisce No non è vero In realtà Ne ho 21 Non è vero Non è vero Ne ho 17 Oh Ok Mi stavo prendendo Un infarto E secondo me Se ne hai Apparenza inganna Apparenza inganna Secondo me Allora 16 è impossibile 16 anni Veramente Allora Secondo me ne hai 17 17 Io sono un mago Ma in realtà perché Abito a casa tua Però non lo so Attento quindi mi puoi trovare Dietro la tua porta E niente Che ansia Così mi metti ansia però Può darsi anche sotto al tuo letto Tutto può darsi Non puoi perché il mio letto C'è sotto un altro letto No c'è sotto un altro letto E va bene Allora io sto sotto a quel letto Che sicuramente Sta Qualche cassetto Sì Hai visto Hai visto Io so tutto Ciao E niente Per caso Non lo so Boh Che sai fare Sai ballare Sai suonare Sai Sai dwercare Sai Non lo so Che sai fare Ciao Un cazzo Un cazzo Ok Un cazzo Ok Un cazzo No Allora Diciamo che So cantare Più o meno E mi piace la fotografia E beh cosa pensi dopo Subito di andare al lavoro Magari sempre Non so Cercar di Cioè magari cerchi No Allora La mia scuola Io non posso Cercarmi subito il lavoro Perché io devo per forza Fare l'università Ah è giusto Perché La mia scuola Mi prepara In qualsiasi materia Quindi Come per esempio Lingue Posso andare a fare psicologia Posso andare a fare legge Posso fare tutto Il mio piano È trovare una facoltà Di criminologia E poi Entrare in polizia A diritto Una poliziotta Sì O nei militari comunque Beh casomai Casomai diventerai Una poliziotta Ricordati di me Se mi vedo in mezzo alla strada Io scappo Va bene Tutti me lo dicono Tutti Madonna Madonna Vabbè Comunque Ci sta vai Io Vado un po' avanti È stato un piacere Parlare con lei Va bene Anche per me A presto Ciao Simpatico Onesta Rega Onesta 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 Devo dire Che quel Signore L'abbiamo trovato Non ero Onesto Però Vabbè Lei è molto Simpatica Rega Io L'ho chiesto Me l'avevo detto Che ci avevo diretto Ciao Ciao